Se la sezione della fenomenologia dello spirito intitolata alla coscienza vedeva la centralità dell'oggetto, nella sezione intitolata invece alla autocoscienza, quindi nel momento antitesi della prima parte della fenomenologia dello spirito, nel secondo momento quindi di questa articolazione, la autocoscienza, ripeto, la sezione intitolata all'autocoscienza invece è centrata sul soggetto. Indubbiamente l'autocoscienza è la parte della fenomenologia dello spirito che ha avuto maggiore risonanza nel corso del tempo. Nella sezione precedente, nella sezione coscienza, infatti, quella che riguardava la coscienza e dunque il rapporto dell'io nel soggetto con l'oggetto, ecco, qui venivano trattati temi piuttosto astratti, piuttosto tecnici della filosofia, temi gnosiologici, quindi improntati alla teoria della conoscenza, temi trascendentali, epistemologici, metafisici, ecco, quindi temi molto sottili sviluppati anche con argomenti piuttosto complicati, certamente eleganti ma di sapore estremamente specialistico. Ecco, se questo avveniva nella sezione coscienza, nella trattazione invece dedicata all'autocoscienza sono invece coinvolti problemi più legati all'uomo e alla sua storia, anzi i temi dell'uomo e della sua storia, nel senso più vasto e più vivo dei termini uomo e storia. Con l'autocoscienza quindi si tematizza propriamente l'ingresso dell'umanità nella storia e per questo motivo affiorano qui in questa sezione, in modo anche piuttosto sottolineato, piuttosto marcato, fenomeni storici specifici, fenomeni legati all'attività concreta dell'io, l'attività concreta dell'io considerato soprattutto nel rapporto con gli altri. Ecco che di conseguenza questa sezione non si muove più soltanto nell'ambito dei temi gnosiologici, nell'ambito del tema conoscitivo, come nel capitolo della coscienza, ma contiene invece una dimensione più ampia, di più ampio respiro, rapporti ecco più ampi, come ad esempio la società, come la cultura, come la storia della filosofia, come la religione. Ora, dice Hegel, qual è la forma prima, più originaria, più elementare, attraverso cui, la forma più immediata, ecco, attraverso cui l'autocoscienza si presenta nella storia? L'autocoscienza si presenta innanzitutto nella storia sotto forma dell'individuo, dell'individuo che sta per sé e che è dominato innanzitutto da alcune pulsioni vitali, un individuo quindi molto legato, vincolato al mondo naturale e che è mosso innanzitutto da alcune pulsioni vitali. La più importante di queste pulsioni vitali è quella che Hegel chiama l'appetito, potremmo denominarla così, beghirde, cioè il desiderio di dominare, il desiderio di possedere gli oggetti della natura. Ecco, questo desiderio di dominare e di possedere gli oggetti della natura sta alla base dell'impulso vitale della autocoscienza che fa il suo ingresso nella storia e che si presenta innanzitutto come individuo. Ora, mentre la coscienza guardava verso l'oggetto, quindi guardava l'altro nella dimensione dell'oggetto, l'autocoscienza guarda all'altro inteso come soggetto, o meglio l'autocoscienza, si guarda attraverso l'altro. Questo vuol dire, Hegel vuol dire che l'autocoscienza per potersi realizzare, per poter esistere, ha bisogno innanzitutto spinta dall'impulso vitale di dominare l'altro. L'autocoscienza è innanzitutto spinta da un impulso vitale di dominio sulle cose e soprattutto sugli altri al fine di realizzarsi, al fine di di riconoscersi. È come se l'autocoscienza non potesse riconoscere se stessa se non attraverso un rapporto di dominio con l'altro che è l'altro soggetto, che è l'altro individuo, che è l'altra autocoscienza. Ecco quindi che in Hegel troviamo una visione antropologica che inizialmente è piuttosto pessimistica, ecco quindi quella di un'autocoscienza, di un individuo che è un'autocoscienza che si confronta con l'altro in modo e con modalità che sono innanzitutto conflittuali. L'autocoscienza, per aggiungere la piena autoconsapevolezza, la piena consapevolezza di sé, deve sostanzialmente affermarsi sopra un'altra autocoscienza. Dunque si amplia, diciamo così, anche la sfera di intervento dell'autocoscienza rispetto alla coscienza. La coscienza si limitava a osservare e a dominare il mondo degli oggetti. L'autocoscienza invece è spinta a dominare il mondo dei soggetti, cioè ad affermarsi sopra le altre autocoscienze. Quindi Hegel spiega che l'uomo, ossia l'autocoscienza, ha bisogno di un altro uomo, ossia di un'altra autocoscienza, per potersi affermare. Ma questa affermazione avviene attraverso, questo sviluppo dell'autocoscienza avviene attraverso rapporti che sono conflittuali. Ovviamente questo impulso vitale, questo appetito, questo desiderio di dominio generano una lotta, generano una guerra dell'autocoscienza con le altre autocoscienze. Una guerra per la supremazia, una guerra dell'individuo contro altri individui, i quali lottano per le stesse motivazioni, i quali, esattamente come l'autocoscienza iniziale, sono spinti dal proprio impulso vitale a soddisfare i propri desideri, a soddisfare i propri desideri nel mondo e quindi ad affermare la propria volontà, ad affermare se stessi, ad affermare la propria autonomia, il proprio diritto, quindi ad avere, a poter dominare gli altri. Siamo in questo momento, precisamente, Hegel sta descrivendo in modo filosofico, cioè sta delineando una rappresentazione della vita sociale primitiva, dicendo quindi che i primi rapporti umani, i primi rapporti tra gli uomini non furono improntati alla socievolezza, non furono rapporti di naturale socievolezza. All'inizio, anzi, della storia umana c'è innanzitutto il conflitto, c'è innanzitutto la lotta per il riconoscimento, c'è una presa di posizione, una guerra di tutti contro tutti, dove ogni essere è spinto ad affermare la propria autonomia, opponendosi agli altri esseri, agli altri individui, alle altre autocoscienze. Chiaramente in questa lotta per l'affermazione di sé, ciascuna autocoscienza mette a repentaglio se stessa, mette a repentaglio la propria vita. Quindi ogni autocoscienza accetta una sfida, la sfida data dal conflitto. Questa sfida e questo conflitto sono le condizioni necessarie però per per l'autoaffermazione della coscienza individuale, la quale deve essere a questo punto pronta a qualsiasi prova, a qualsiasi pericolo. L'autocoscienza deve accettare e affrontare il pericolo, l'autocoscienza deve mettere in gioco la propria vita. Per affermare la propria volontà, per affermare il proprio impulso vitale, il proprio desiderio di dominare l'altro e gli altri, e dunque per affermare se stessa, l'autocoscienza deve accettare il pericolo, deve accettare il rischio, deve mettersi in gioco, deve accettare il rischio di morire, di perdere la vita, di perdere tutto, di affrontare quindi il rischio del diventare nulla. E questa accettazione o meno del rischio di diventare nulla, questa accettazione o meno del pericolo di morte che insita in ogni conflitto, è un conflitto necessario all'affermazione di sé, ecco questo porterà a una delle più celebri figure dell'autocoscienza, una delle più celebre figure della fenomenologia dello spirito, che è il rapporto serbo-padrone. Questa celebre e suggestiva figura della fenomenologia dello spirito, che diventa celebre grazie anche al modo in cui è stata analizzata, è stata ripresa dal marxismo, ecco questa celebre e suggestiva figura della fenomenologia che è il rapporto serbo-padrone, il rapporto padrone-servo, analizza in modo estremamente efficace una delle più importanti lacerazioni che siano mai avvenute nella storia dell'uomo, ossia quella che mette capo, quella lacerazione che da una parte vede il polo del padrone, del signore, dall'altra vede invece il polo del servo e quindi il padrone e la servitù. Questo rapporto serbo-padrone tra l'altro è la prima valorizzazione del lavoro compiuto da un filosofo. Ed è per questo che Marx esalterà questa analisi hegeliana del rapporto serbo-padrone e anche dell'analisi hegeliana del lavoro, la celebrerà come, la esalterà come una delle, la più alta gloria, ecco, la più importante acquisizione filosofica fatta nella fenomenologia hegeliana. Proprio questo aver tematizzato il processo lavorativo per la prima volta in modo filosofico. Ecco, proprio questo Marx ascrive a merito importantissimo di Hegel. Entrando un po' nel dettaglio di questa dialettica serbo-padrone, perché chiaramente anche qui si tratterà di una dialettica, si tratterà di una posizione iniziale e poi di un rovesciamento di quella situazione. Ecco, entrando un po' quindi nello specifico, va detto che la lotta che abbiamo visto inizialmente tra le autocoscienze, la lotta per l'affermazione delle autocoscienze, è necessario che questa lotta porti infine ad un vincitore e un vinto. Ma vincitore e vinto non vanno intesi come colui che rimane in vita, vincitore, e colui che invece muore, il vinto. Insomma, questo conflitto non porta all'annullamento della coscienza che è sconfitta, non porta all'annullamento delle autocoscienze contendenti. Perché? Perché un'autocoscienza ha sempre bisogno dell'altra autocoscienza per riconoscersi. Un'autocoscienza non può mai davvero essere tale se non in un rapporto con altre autocoscienze, come se venendo meno una delle due autocoscienze, uno dei due opposti, allora anche l'altro fosse destinato a venir meno. Perciò il rapporto, il conflitto tra le autocoscienze non culmina nella distruzione, nell'annullamento, nella morte di uno dei due rivali, bensì in una sottomissione, in un asservimento, in un rapporto appunto di sottomissione dell'una coscienza all'altra. E questo rapporto di sottomissione determina proprio il rapporto di schiavitù. Un'autocoscienza diventa padrone, l'altra autocoscienza diventa serva, schiava, ed è proprio il rapporto tra il padrone e il servo. E precisamente in questa lotta, quando avviene che è possibile identificare un vincitore e uno sconfitto, quando una delle due autocoscienze, piuttosto che combattere, si sottomette. Ecco, in quel punto, in quel momento, nella lotta per il riconoscimento, trionfa, vince chi non ha paura di perdere la propria vita. Colui che non ha paura di perdere la propria vita, colui che non ha paura di affrontare il pericolo, ecco che si afferma su colui che, come padrone, diventa padrone di colui che invece teme la morte e rinuncia a lottare e diventa quindi servo del primo, servo della prima autocoscienza. Quindi colui che, in questa contesa per l'affermazione, in questa contesa per il riconoscimento di sé, non teme di perdere la propria vita, ecco che questi si impone su colui che invece ha paura della morte. E di conseguenza il primo diventa padrone e il secondo, quello che ha avuto paura, diventa servo. Il servo è diventato servo proprio perché non ha osato lottare e ha anzi preferito sottomettersi. Ora, andando a vedere qual è l'epoca storica di cui Hegel sta parlando, questo rapporto di servo padrone identifica nello specifico il rapporto di servitù che è conosciuto come quello della servitù della gleba durante l'Alto Medioevo, quando i contadini si recavano nei pressi del castello e lì fondavano un paese, fondavano un villaggio. E perché lo facevano? Lo facevano per avere protezione, per avere la protezione di un cavaliere, di un signore al quale poi si sottomettevano cedendo parte del loro lavoro, cedendo anzi la decima parte del raccolto. E proprio questo aspetto del lavoro adesso è centrale e diventa oggetto dell'analisi di Hegel. Nel linguaggio hegeliano infatti al servo, dice Hegel, è essenziale la cosalità. Cosa vuol dire che al servo è essenziale la cosalità. Questo significa che il servo è colui che sta presso le cose, che rielabora le cose, è colui che lavora, è proprio con il lavoro, sta presso le cose, modifica, rielabora e incide sulle cose, sulle cose che poi saranno fondamentali per il godimento del Signore, sulle cose che verranno godute dal Signore come appunto i prodotti della terra. In altri termini il servo, a cui è essenziale la cosalità, è colui che è direttamente vicino alle cose, mentre il Signore è colui che si accosta alle cose soltanto indirettamente, cioè soltanto tramite il lavoro del servo. Al servo dunque è essenziale il lavoro. Al padrone non è essenziale, non è una caratteristica fondamentale del padrone. Il lavoro è il lavoro del serbo e il padrone può godere delle cose soltanto attraverso la mediazione del lavoro del serbo. Anche questo, come sappiamo, essendo un rapporto dialettico, è però un rapporto destinato al rovesciamento, al superamento, al capovolgimento dei ruoli, tra i due protagonisti, tale per cui proprio quel padrone che non lavora sarà destinato a diventare il dipendente, è dipendente dal serbo. E quel serbo che invece lavora, proprio attraverso il proprio lavoro, vedrà la sua preeminenza sul padrone che dipende appunto dal serbo. E la radice di questo, anzi il motore di questo capovolgimento, di questo rovesciamento dei rapporti tra il serbo e il padrone, si ha proprio nel lavoro. Lavorare significa lasciare una traccia di sé, lasciare un'impronta di sé, significa modificare la realtà, lasciare un'impronta della propria spiritualità nella materia. E allora attraverso il lavoro il serbo si accorge che il padrone è dipendente dal lavoro del serbo, è dipendente proprio per la sua sopravvivenza dal lavoro del servo. E quindi nella misura in cui il servitore si rende indispensabile ecco al signore e alla sopravvivenza del signore, allora lo costringe a dipendere dal serbo e in questa dipendenza del padrone rispetto al serbo sta il dominio del serbo sul signore. E nello stesso tempo in cui trasformando le cose, trasformando la realtà, lasciando una traccia di sé nel mondo attraverso il lavoro, nel momento in cui il serbo fa questo, ecco che imprime nel mondo, nella realtà, la propria essenza, la propria capacità, la capacità umana di trasformazione, di rielaborazione della natura. E proprio nel fare questo, proprio nel rielaborare la natura, proprio nel modificare la natura e in qualche modo anche nel dominare la natura, ecco che il mondo, la realtà, la natura smette di essere per il serbo qualcosa di estraneo, smette di essere un ostacolo. Quindi in questa opera di continua trasformazione della realtà naturale che è il lavoro, in questa opera di continuo trasferimento di sé nella realtà che è il lavoro della propria intelligenza, delle proprie competenze, delle proprie capacità che nella realtà che è il lavoro, ecco proprio in questo il lavoro umanizza il mondo e il serbo umanizza il mondo attraverso il lavoro, cioè immette nella realtà, immette nella causalità, immette nelle cose la propria essenza, la propria caratteristica di essere attivo, creativo e progettante. Ed ecco quindi che nel suo lavoro e nel prodotto del suo lavoro il servo riconosce se stesso, ritrova se stesso, ritrova se stesso in tutta la sua capacità, in tutto il suo impegno, in tutta la sua essenza e nel ritrovare se stesso si riappropria del sé perduto. Il servo, insomma, acquisisce coscienza di sé e nell'acquisire coscienza di sé si rende conto di questa sudditanza del padrone nei suoi confronti. La consapevolezza di questa sudditanza gli dà anche la coscienza e la consapevolezza di essere sostanzialmente libero, perché è il padrone che dipende dal serbo. Ed ecco quindi rovesciato questo iniziale rapporto, tale per cui inizialmente era il serbo a essere appunto servo del padrone, ma ora, in base al lavoro del serbo, è il padrone a scoprirsi invece dipendente dal serbo, o meglio il serbo scopre che è il padrone a dipendere da lui. Il serbo invece è colui che si è appropriato di sé nel lavorare, colui che nel lavorare, nel trasformare il mondo, imprime nel mondo una traccia di sé. E quindi ecco che la realtà non è un ostacolo, non è qualcosa di negativo, ma è quel necessario sfondo sul quale, anzi, il serbo si realizza. Quindi, secondo Hegel, la storia, la storia umana, universale, non procede nel segno e nel senso della supremazia del padrone. Qui, tra i due, in questa figura, rapporto serbo-padrone, è il serbo a essere centrale, è il serbo a essere indispensabile. Senza il serbo non vi è nessun signore, perché senza servo non c'è alcun godimento da parte del signore, non c'è alcuno status da parte del signore. Quindi, senza servo non c'è signore, ma il servo può sussistere tranquillamente invece senza il signore. Quindi, cosa fa Hegel? Hegel dimostra che, grazie al lavoro, proprio grazie al lavoro, un rapporto che inizialmente era orientato in un certo senso, cioè nel senso del dominio del padrone sul serbo, finisce poi per rovesciarsi, finisce per rovesciarsi nel suo posto, cioè nella libertà del serbo dal padrone. L'autocoscienza servile, quella che si identifica e che si riconosce nella sua capacità produttiva, nella capacità produttiva dell'uomo, si afferma come la più autentica, si afferma come la più autentica perché è la più produttiva, si afferma come la più autentica e la più duratura rispetto al signore, proprio perché è la più produttiva, proprio grazie allo strumento del lavoro. E siamo quindi di fronte a un classico capovolgimento dialettico, quello per cui, a scoprirsi veramente importante, non è il padrone, ma è il serbo. I contemporanei amarono Hegel per la sua sistematicità, per la sua logicità. Hegel è senz'altro da applaudire perché è un funambolo della filosofia, è un funambolo della filosofia perché riesce ad argomentare in modo assolutamente sorprendente talvolta questi capovolgimenti, tali per cui si parte da una situazione e si finisce nel suo posto. Hegel oggi sicuramente è da apprezzare, viene apprezzato anche per alcune sue singole riflessioni, al di là del carattere sistematico della sua filosofia e della sua capacità filosofica di pensare fino in fondo un concetto, un fenomeno, un oggetto della filosofia. Hegel è da apprezzare per alcune sue riflessioni e una di queste è senz'altro quella che riguarda il rapporto servo-padrone. Questo entra senz'altro a pieno titolo nella categoria delle riflessioni filosofiche che maggiormente sono da apprezzare in Hegel. Già Marx infatti apprezzò in modo particolare questa analisi della schiavitù, soprattutto per il modo in cui Hegel tratteggia la nascita della schiavitù, ma ancora di più proprio per il fatto che Hegel dimostra con la tecnica del capovolgimento dialettico come l'iniziale rapporto di schiavitù tende poi a stravolgersi, a capovolgersi nel suo contrario, con la conseguenza che il vero padrone è il servo.